Buon sabato e ben trovati dalla redazione giornalistica di RTR. In apertura del nostro telegiornale c'è la sanità perché ieri è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il nuovo ospedale di Rieti. Un polo ospedaliero altamente tecnologico sostenibile green di 70 mila metri quadrati con 440 posti letto. Questo è il nuovo ospedale della provincia, un investimento di 179 milioni di euro che sarà strutturato attraverso una piastra su due livelli per andare incontro a tutte le esigenze del territorio e di tutta la popolazione. Un'opera che porta Rieti nel futuro e che sorgerà in prossimità del vecchio ospedale. Abbiamo accettato la sfida di costruire questo ospedale in cinque anni e quindi di fare in modo che diventi veramente un punto di riferimento sul territorio. Come avete potuto notare dalla presentazione un ospedale veramente moderno, non oggi ma tra cinque anni, ecosostenibile ma anche molto flessibile, modulabile, aperto alla città, aperto alla comunità con alcune flessibilità interne particolari, organizzato secondo una logica di processi e soprattutto per intensità di cura, quindi con le degenze organizzate per i diversi livelli di complessità e intensità di cura. Un ospedale che ha soprattutto alcuni spazi tecnologicamente avanzati e poi un ospedale digitale interconnesso dove c'è la possibilità di gestire dopo o durante anche da remoto e quindi che può in qualche modo essere ponte per il territorio e per le attività territoriali. L'efficacia della cura, l'umanizzazione dell'assistenza, l'aggregazione funzionale, la realizzazione di flussi dedicati, la velocità dei percorsi assistenziali consentiranno una risposta efficiente ed appropriata nei diversi setting assistenziali con un'alta qualità delle prestazioni ospedaliere erogate. Lo studio è orientato alla realizzazione di un edificio ad elevata efficienza ambientale con eccellenti livelli di comfort in armonia e continuo dialogo con l'ambiente. Tre le fasi di realizzazione, fase di progettazione, fase di appalto e fase di costruzione dell'opera, il tutto da affrontare in cinque anni. Lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Rieti ora passerà all'esame della Direzione Centrale Patrimonio dell'INAIL per l'approvazione a cui seguirà l'affidamento della progettazione esecutiva da parte dell'ASL di Rieti che avverrà entro il 2022.